Un momento di preghiera dinanzi al Palazzo di Città per chiedere lavoro, per avere certezze del proprio presente e del proprio futuro. Erano in 500 ieri sera ad assistere alla messa ufficiata dal Vescovo della Diocesi di Piazza Merina, Monsignor Rosario Gisana, da sempre vicino ai lavoratori. A chi soffre? C'erano tutti i sacerdoti delle chiese locali, gli operai dello stabilimento, con moglie e figli al seguito, il sindaco Domenico Messinese, assessori, consiglieri comunali e dirigenti sindacali. Non bisogna perdere la speranza. Per noi la speranza è Gesù e siamo convinti che nella misura in cui davvero invochiamo il Signore, perché è chiaro le soluzioni non sono così semplici, l'invocazione ha un duplice significato da una parte, certamente di stare vicino ai nostri lavoratori, sono i nostri poveri in questo momento, tra virgolette, ma d'altra parte perché effettivamente dove due o tre sono riuniti nel nome del Signore possiamo chiedere qualunque cosa ed egli ce la concederà. Per cui siamo qui perché vogliamo invocare il Signore e speriamo che ci aiuti ad avere mente lucida per una soluzione che possa essere la migliore per tutti. È una scelta casuale fare la messa dinanzi al Comune di Gela, dunque un invito alla politica a fare di più? A dire il vero sono stati tutti i lavoratori, sono stati loro a deciderlo e a stabilirlo e credo che possa essere anche, non so, se vogliamo interpretarlo in maniera allegorica, uno stimolo, ma insomma di là di questo semplicemente un luogo spazioso dove possiamo effettivamente incontrarci comodamente. Il Vescovo si rivolge direttamente al Premier Matteo Renzi che ha il compito, il dovere di trovare una soluzione al gravissimo problema che interessa i lavoratori dello stabilimento Eni. Pensi a Gela e che ci aiuti, illuminato dalla nostra preghiera, ci aiuti a trovare una soluzione che sia più in fretta possibile e anche più coerente. Lei più volte ha detto che al dramma potrebbe aggiungersi un altro dramma che è quello della malavita organizzata che potrebbe chiedere dei soldi. Lei ha già avuto sentore di quello che sta accadendo a Gela? Ma guardi, al di là del sentore è direi una questione di logica. Quando le persone si impoveriscono, evidentemente è chiaro che per poter mandare avanti e sbarcare il lunario cosa si fa? Due sono le possibilità. O il suicidio, purtroppo, oppure andare a parare da queste sfere malavitose. Purtroppo sono le condizioni. Quindi noi dobbiamo cercare di evitare tutto questo. Monsignor Gisana ha detto che la sua presenza tra i lavoratori è voluta da Papa Francesco che prega per loro e per le loro famiglie, nella speranza che i governanti, politici e dirigenti d'azienda si convertano e diano le risposte risolutive che la gente aspetta da tanto tempo.